mamma mia ci siete ragazzi mi tremano le gambe il video è partito il salto è questo è violento è violento di brutto infatti c'è il cinema che guarda oh che cazzo fai voglio vado 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 convinti ragazzi tranquillo l'ho già fatto guarda sono bagnato l'ho già fatto anche io l'ho già fatto mi sono bagnato david mi è venuto dietro la ruota ma proprio la ruota insomma ci ho pensato facendo la ruota non hai capito e Rocco qua non facciamo i film di due ore e mezzo però tanto la macchina è di due giga vado se ne stai ma quante fiamme voi vado le banche ti sei tu hai già fatto da me ne ho vado no vai dieci no vado bene a metafarti ecce aakitammur che porco vado 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 a manca la rocchetta io non ce la faccio veramente